buonasera fabio intanto voglio scusarmi con te per averti forse un po bruscamente tolto la parola ieri sera mentre si parlava del nostro caro amico mario sista io l'ho fatto per un semplice motivo poi naturalmente mi sono scusato perché avevo avuto l'impressione che rita sista stesse per andarsene allora non volevo farle perdere l'occasione di ascoltare la bellissima lettera di rosanna quindi mi sono intromesso forse un po a forza e di questo me ne scuso se ti ho tolto dello spazio poi spero che magari la prossima volta rinuncerò io allo spazio per te dunque io questa sera con te voglio parlare di cinema cambio della guardia abbassiamo le luci sta per cominciare la proiezione di quello che ho visto qualche sera fa ho visto un film di edoardo punti la vita davanti a sé tratto da un romanzo leggo perché non ricordo esattamente di romain gueri uno scrittore lituano naturalizzato francese che nel 1975 pubblicò il romanzo omonimo la vie devant soi con lo pseudonimo di emile ajard dunque per noi che in un certo senso lo abbiamo visto attraverso i nostri dialoghi siamo un po rompiscatole eufemismo probabilmente vedendolo ci risulterà evidente una regia piuttosto approssimativa una sceneggiatura carente un montaggio che lascia un po' a desiderare tu adesso dire ma che stai mi consigliando ma che cosa mi stai consigliando è un film che a me però è piaciuto moltissimo perché è stato fatto con il cuore probabilmente molto ha influito il fatto che edoardo punti abbia voluto rendere omaggio alla mamma sofia loren che in questo film in pratica sorregge insieme al giovane protagonista un ragazzo africano ibrahima grieia gueia regge l'impalcatura di questo di questo film dal grosso contenuto etico morale e che lascia veramente un buon ricordo sostanzialmente si tratta di un di un giovane un dodicenne senegalese che per intorno ai sei anni di età i propri genitori viene accolto ma comunque non ha un intorno a sé un humus adatto a far sviluppare le virtù cade in preda alla mala vita viene affidato ad un medico ebreo che poi alla fine lo affida a sua volta a sofia loren madame rosa anche lei ebrea sopravvissuta da auschwitz ci sono delle frizioni tra i due perché lei è una donna di sani principi lui potenziale delinquente quindi ci sono delle frizioni che però poi vengono risolte non sto a dire naturalmente il finale questa in granderina è la trama un film fabio sì per noi in un certo senso puristi fa un pochino riflettere sulla sua portata tecnica e filmica ma dal punto di vista umano è un formidabile insegnamento abbiamo di fronte due persone che due personaggi che in pratica ribaltano il titolo del film la vita davanti a sé in realtà quello che accomuna questi personaggi che poi li fa rappacificare tra loro e che li porta alla conclusione stupenda bellissima che vedrai se assisterai a questo film è il loro passato il giovane 12enne ha perso i genitori a sei anni lui era legatissimo alla mamma dice mi piaceva giocare sui suoi piedi la madame rosa una splendida 86enne sofia loren senza un ombra di trucco senza un niente come è adesso quando ha saputo come una grande donna che ha saputo donare alla se stessa alla vecchiaia splendida meravigliosa nella sua vecchiezza madame rosa diceva appunto che alle sue spalle auschwitz la terribile storia della shoah ricostruendo le vicissitudini presenti con gli strumenti che ha donato loro il passato alla fine si rappacificano con un processo che è narrato con un po d'approssimazione mi dicono che il libro il romanzo da cui è tratto che non tarderò naturalmente a procurarmi sia molto bello in casi si dice meglio il libro del film d'accordo sicuramente sarà vero ripeto il libro il romanzo non l'ho letto mi auguro di leggerlo presto però il film lascia lascia un bel ricordo è un film denso pieno umanamente ricco di caratterizzazioni i bambini che accoglie la madame rosa perché lei appunto oltre al giovane protagonista accoglie anche altri bambini altri personaggi che emergono abbiamo un fantastico renato carpentieri nella parte del dottor cohen il primo affidatario del giovane abbiamo altri attori un straordinario massimiliano rossi in un in un drug dealer uno spacciatore che coinvolge il ragazzo il tutto ambientato nel in una periferica bari di porti e di tristezza fabio io sono veramente contento di averlo visto torno ancora a scusarmi per con te per l'altra sera però ripeto avevo l'urgenza di comunicare a rita sista questa questa perla che ha scritto rosanna confidando nella tua comprensione e promettendoti a una volta che ti cederò il mio spazio la prossima volta ti auguro una felice serata ripeto la vita davanti a sé regia di edoardo punti una straordinaria sofia loren 2020 una buona serata ancora fabio e grazie per l'attenzione